Ciao a tutti io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su A Plague Tale Innocence Ok sembra tipo marciume Nello scorso episodio siamo arrivati nella Nel monastero Aiuto mi fa un po' di paura perché forse non faremo in tempo E adesso siamo entrando nella La cripta che è l'unico modo per passare inosservati diciamo Ok Andate via Sono stati loro Che bello Non vedevo l'ora Allora vediamo qua cosa c'è se c'è qualcosa Magari c'è qualche consumabile qualche roba no Ok Buttiamo allora al lato il ramacello Ne riaccendiamo un altro E andiamo avanti di qua Fa molto schifo questa roba non capisco cosa sia Se sono tipo Non possiamo toccare i muri Perché non potremo Sono tossici Forse Forse Creano portano malattie Non lo so Andiamo qui Io ti direi di correre E infatti Run for your life Hugo E scusami Temono il fuoco Ma anche la luce del sole Te l'ha già spiegato cos'è successo Non puoi cercare gente morta Purtroppo non sei tu a decidere Ah era praticamente finito il capitolo Capitolo 4 L'apprendista Allora raggiungi la fattoria di Laurentius Possiamo anche correre Qua si può scendere Mulino Spero proprio di sì Allora vediamo cosa c'è qua Mi sa di roba dove ci sono segreti O potenziamenti per la fionda Veniamo un pochino A meno che non finiamo mangiati dai topi Non c'è un cazzo invece Non vedo niente di sbellucicante Ah no Eccoli là Questa è una pietra Ah no Sono potenziamenti Alcol e tessuto Bolle Eh vabbè La vedrai prima o poi Magari era un cadavere Cosa ne sapete Qua c'è un Un falò Di qualcuno che si è accampato Eh Eh già Mi sa che Le bolle non erano una rana Dubito fortemente Aveva il fuoco Un soldato Sì Ok Quindi sanno dove Stiamo andando Ok Tempo di nascondersi di nuovo Ok Usare gli oggetti metallici Tornate per creare diversi Perché ha fatto quel pium Ok Mentre che lui torna indietro Noi avanziamo Ok Pronti? Perfetto Ha funzionato benissimo Ora Va bene Qua c'è un vaso No 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 Vieni 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 Devo scegliere Ecco qua Il vaso Noi passiamo Di qua non si può andare No Qua nemmeno Che culo Che non ci ha visto Siamo in trappola Un buco nel muro Eh sì Eh sì C'è un buco nel muro Non mi fede Oh Dio Oh Dio Oh Dio Oh Dio Sono d'accordo Sono d'accordo con te Per una volta Oh no Si è bloccato il telefono Dio Lord Nicholas Che la ruota è bloccata Lord Nicholas Il mio avviso è un veicolo Che vuole andare a fare È per essere stoppato E ci sono E cosa stiamo cercando Esatto Un figlio di 5 anni Tu hai un ruolo Brun e blu Ma passiamo Ok Ssshh Ma cazzo passiamo Ok basta che non ci facciano saltire da dietro in realtà Da dove possiamo passare dal laghetto Non mi sembra Ma forse dobbiamo solamente aspettare che passi Non credo di doverlo uccidere Ok Smooth Qua lui non può vederci Allora Usiamo il vaso Un po' di ansietta Vai a controllare Vai 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 Allora dovete essere velocissimi No VELOCISSIMI Ho detto Ok Qua c'è una cosa per potenziare la fionda Mi sembra il momento giusto A parte che non ho cose per potenziarla Però ok Eh già Just a false alarm Dimmi Non ne ho la più palle idea Penso solamente che stiano cercando qualcuno Che a guidare la colpa Che a guidare la colpa Ah eccoci qua No Pazzito Un pochino E guarda un pochino Un porcello Ciao Entriamo qua dentro Ma c'è qualcosa Filo e pelle Filo e cuoio Posso andare qua Posso andare qua Eh già Allora Dobbiamo spostare Prima di tutto Questa guardia Direi di farla andare qua Oh merda Oh merda Ah Ha funzionato Ma non come volevo Ma l'ho mica visto quello Io proseguirei Ok Quello cos'è Ma tipo un collezionabile Proviamo a vedere Proviamo a vedere cos'è Al rischio della nostra vita Solo estetica Solo estetica Solo estetica Solo estetica Questa cos'è Pietra O gol dove sta andando Ah Bene Ma zetta Vai 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 Super rapida Assolutamente Niente che ti interessi Dobbiamo aspettare Che questo faccia il giro Sicuramente Eh dobbiamo Sincronizzarci anche Con quell'altro Aspettiamo Vediamo Perfetto Ora Qua c'è un vaso Che possiamo usare Per spostarne uno Opla Appena questo gira Possiamo andare lì in fondo Ora Sperando che Non ci metta poco A tornare indietro Perfetto Poi ci sono delle buche Ah stanno cercando Di coprire le buche Dei ratti Cosa devo fare Dove andare di qua Non lo so Non cantare vittoria Non può essere tutto Nascondi nascondi Ritirata Ho sentito solamente Molti passi O era una carrozza O erano i topi Le cose sono due Ok erano i topi Così almeno ci diamo Una mossa Ma non possiamo correre E va bene Godiamoci il cammino E il panorama Ormai No Secondo me Sei collegato i topi In qualche modo Perché ogni volta Che passano Ti viene quella Specie di crisi Quindi Forse per quello Che ti stanno cercando Il mulino di Laurentius Ok Non lo so Non so neanche Se sia ancora vivo Dato che il mulino È tutto rotto Cazzo maiali Mucche Eh si Eh lo so Mi dispiace Mi sa tanto di boss fight Sapete Ai Eh si Non mi ha dato il tempo Fisico Di andare a prendere Una torcia Mi si è morta Allora Quindi Passiamo Dove sono le torce Era normale Che succedesse Una roba Il genere Rapidì Torce 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 Non ho tempo Di guardare Più o meno Corri 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 In che senso E deve stare Rapidissimo C'è fuoco Lassù Lo vedo Dobbiamo solamente Arrivarci Vai Via 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 Ok Odio il cavolo Vi odia E adesso Cos'è quella roba Ah Ha funzionato Che schifo però Un pochino esagerata Questa cosa Quanto grande era Questa fattoria Con tutti questi maiali Maiali e mucche In realtà Le mucche sono molto grandi Eh però Sono comunque Tantissime Allora Cerchiamo di capire Dove dobbiamo andare Prima di prendere Questa roba Zolfo E salnitro Ce l'ha al massimo Dove Direi non qua Ah lì sopra Ok Eh Perfetto Spero almeno Che sia lì sopra Beh si sembra L'unica zona Dove andare Oh oh Mi sa che mi sono Appena fottuto Alla run E infatti Ah mi si è morta Allora facciamo così L'abbiamo già visto Minchè davvero Che schifo Che poi penso sia sangue Non sia fango Però Allora io prenderei A questo punto Il ramoscello E vedrei Se lo possiamo Accendere da una torcia Invece che accenderlo Dal fuoco Perché se no Non ci basta il tempo Sì Lo posso accendere Dalla torcia Fate da bravi Dobbiamo stare Lontani dal Da come si chiama Dal sangue Che loro chiamano Fango Accendiamo il fuocarello Ora Dove dobbiamo proseguire Non sono tanto sicuro Vabbè Passiamo Dove non c'è Il fango Ah perfetto Possiamo Spostare questo Allora Lo accendiamo Accendiamo il fuoco Così possiamo Spostarci Facciamo così Prendiamo Cuoio E tessuto E questo lo possiamo Spingere No? Beh Conveniente Ce lo portiamo In giro ovunque Non è vero Che siamo quasi Arrivati insieme In brugliano Dai Sbrigati Siamo quasi arrivati Eccoci qua Possiamo anche mollarlo Adesso no? Bruttino Più o meno Io non urlerei L'apprendista Raggiungi la fattoria Oh io Frugo Come vuoto Penso che questa sia cosa Da fare dopo Però Sto cercando Un banco da lavoro Pietre Eh Non c'è niente di che Posso uscire da qua? L'inutilità delle cose Va bene Andiamo a bussare la porta Sto diventando più obbediente Il bambino Cosa facciamo Possiamo È chiusa Ciao Ciao Non si può entrare Che rumore brutto Chiuse anche questa È niente Devi entrare Aprimi la porta E normalmente prendo questo Ok All'altro l'ho perso Ok mi ha aperto la porta Quindi possiamo proseguire C'è un banco da lavoro Riduce il tempo impiegato per uscire Da una messa per uscire a caricare la fionda Che schifo Mi sa che sia malato Sto assendo in modo molto brutto Ah bene Quei prosciutti Non Non mi fanno pensare a niente di buono Esploriamo E vediamo un pochino Non c'è nulla Sono delle pozioni Sta creando sicuramente Qualche rimedio Saliamo su LUCAS Eh sì Che senso, un malantico Un malantico corso through your family's veins in its blood Your mother and I attempted to slow its progress but ever since the great break the process has quickened You must protect him Amicia Continua your mother's work Ma puoi farlo tu? Ma come? My parents tried and now they are both dead Leave me alone Eh They're here The roots are dangerous but disorganized The inquisition however they seek the boy tirelessly We have to disappear In quelle condizioni vieni Lucas Go to the barn Lignifer 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 Don't try to talk I will prove myself I'm sorry about your parents but you're not alone anymore We have to move fast If you can help me make the ignifer it will protect us from the rats Come Hugo I don't want you to stay here Come on Come on It's a minute I can't wait to see 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 interiore a terra rettificando in venies cultum lapidem che significa visita all'interno della terra operando con rettitudine e trovare la pietra nascosta questa massima resume la filosofia alchemica basata sullo studio della natura fondamentale degli elementi che ci circondano e di come sono trasformati questi iniziali danno inoltre il nome all'acido solforico utilizzato per modificare la materia ok questo non abbiamo letto tabarro del crociato l'ultima grande crociata ebbe lungo più di un ebbe luogo più di un secolo fa e la chiesa deve fare fronte a nuove minacce malattia carestia e guerra le calamità spingono l'umanità verso la fede questo bisogno questo bisogno di spiritualità insieme alle innumerevoli perdite umane costringono il clero a educare molti preti in tutta fretta tuttavia alcune persone cercano comunque risposta nel paganesimo nella superstizione e nella disobbedienza agli ordini arrivo ora fantastico caldo ok vieni vieni muoviti no lui è grande adesso si vergogna brigati yugo come l'ha fatto arrivare fin qua i topi che bello il retro ah vuoi risposta da me vedo che sei già dal maiale cosa è questo per forza ah li sono andando a mangiare il maiale eh si perati però però del cibo meschino ok ok una scala di lato quella che era caduta dai ah fai tu ma dobbiamo ok eh per forza andiamo per di qua ah lì sotto vabbè qua siamo protetti no eh oh è un alchimista hai immaginato ah tiene anche dei ratti aspetta aspetta perché sennò non voglio usare le mie risorse farlo lentamente non è pericoloso allora può creare l'ignifer tieni premuto il review per aprire il menu selezione per creare al centro della stanza ok non male a quanto pare a quanto pare ok a tizia le braci con l'ignifer fate da bravi voi eh che bracci dobbiamo salire su eh lo spero anch'io ok qua possiamo andare via velocissimo ok possiamo scendere e ora come facciamo eh calmo mi sa che il maestro non farà una bella fine già vabbè che culo rispondono velocemente ma lignifer può riaccendere vai ok non cerco andati e va bene dobbiamo passare quando arrivano le fiamme voglio vedere voglio vedere di sbrigarvi eh infatti quanti cazzo sono ciao 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 Capitolo 5 Il bottino dei corvi Non penso che fare una buona fine Una bella fine questo ragazzo O questo presentimento Luca? Luca? Uhhh in che senso siamo arrivati il sangue aveva una roba strana nel collo calmo 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 va bene ragazzi io direi di chiudere qua questo episodio noi ci vediamo al prossimo sempre qua sul mio canale ciao a tutti se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video ciao 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 ciao